Stacco, lungo la corda Fede, a esso, veloce all'esterno, Papaya, tra i due Penelope Bada, Paterla Nera, di dentro Palmadula, più indietro, Paride Anso, Pella Orso, fuori corsa Tisseri, 200 iniziali, 13 e mezzo, Fede, al comando Papaya di Bossa, in corda Penelope. Stacco, si vada al circumpisamento dei primi, 400 metri, Fede, in vantaggio, 28 e 3, il quarto iniziale, Paterla, fuori l'incalzo, Papaya, rimane a largo, in corda Penelope, Palmadula in forza posizione, su Pella Marorad, Paterla, Paterla, Orso, 43 sotto per i primi 600 metri, la presa bella lega, Fede, poi Penelope, Palmadula, Pella Nera, Papaya, che perde posizione a largo, in corda talide, quindi per la Orso, un minuto scarso, sui primi 800 metri, Fede, a esso, al comando all'imbocco della pulga conclusiva, davanti a Penelope. Il primo chilometro di Fede, a esso, in uno e sedici, in questo tratto, nell'ultimo quarto, Fede, a esso, Palmadula, per la risolvere all'esterno, lasciato per la nera, costringendo in terza, per la Orso, mentre lungo allo steccato, sono a comando Chebada, e Paterla, mancano 4 scelte alla conclusione, con Fede, a esso, per la via di luna, per la frazione, in 14 e 8, per la 1,31, per il parco di milione, il resto del resto di unico, Fede, a esso, al comando, Palmadula, prova l'aggancio, di dubbio, come lo comanda, poi Palmadula, Sede, al comando, Palmadula, prova l'aggancio, Fede, a esso, ancora una buon margine di vantaggio, su Palmadula, poi per la nera, Palmadula, che finisce a velocità doppia, ma ormai è tardi, e vince facile, Fede, a esso, su Palmadula, poi Palmadula,